Generale Tricarico, lei è anche uno dei fondatori della Fondazione ICSA, che cosa è l'ICSA? Una fondazione che si occupa di sicurezza, anzi proprio il primo lavoro in assoluto che abbiamo prodotto è stato sull'Afghanistan, il lavoro nel quale erano già presenti le proposte che oggi purtroppo a distanza di quasi un anno ci troviamo per altri motivi a dover riformulare e adesso credo che faremo un aggiornamento di questo documento, abbiamo fatto anche un rapporto sulla difesa, anche quello annuale, ne faremo un altro sulla criminalità, anzi l'abbiamo già pronto, dobbiamo soltanto presentarle in novembre sulla criminalità organizzata di concerto con il Ministero dell'Interno. Generale Tricarico, come ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, cosa ne pensa delle dichiarazioni del Ministro della Difesa se armare o non armare gli aeroplani in Afghanistan? Ma io affronterei il problema da un punto di vista più generale, non nei termini bombe sì o bombe no sotto le ali dei nostri caccia che sono in Afghanistan. Proprio da una prospettiva più generale direi che in questo teatro operativo la componente aerea sia stata nettamente sottostimata, sottovalutata vorrei dire, si è fatto un ricorso non adeguato alla componente aerea e quando dico componente aerea include evidentemente sia gli elicotteri, sia i velivoli, sia soprattutto gli UAV, i cosiddetti aeromobili a pilotaggio remoto o aerei spia come vengono comunemente chiamati dalla stampa. Partendo dagli elicotteri, la flotta dell'esercito e dell'aeronautica presente ha a disposizione delle ore di volo insufficienti come quantità totale, quindi si vola con il bilancino cercando di non sforare le ore di volo disponibili, tranne che nei casi d'emergenza dove fra l'altro in Mangusta stanno facendo molto bene, un'ottima opera. Però paradossalmente l'aeronautica che perlomeno è un via concettuale, la Forza Armata che ha più professionalità in tutto quello che vola e quindi anche negli elicotteri ha dei mezzi assolutamente poco performanti per il teatro afghano, AB212, appesantiti dalle blindature affaticati dalle temperature troppo alte hanno poi in effetti delle capacità inadeguate, possono trasportare tre persone, gli AB412 all'esercito arrivano a quattro persone, poi si passa ai CHU 47, 50, 60 persone, ma anche a quella capacità intermedia di 10, 12, 15 persone che hanno per esempio i Black Hawk statunitensi. Noi abbiamo questi EH-101, ce li ha la Marina, so che li sta inviando finalmente, c'è però un programma dell'aeronautica militare che è stato ritardato anno dopo anno per difficoltà di bilancio evidentemente, di EH-101, anzi adesso Augusta Westland 101, che con la fattispecie potrebbe essere velocizzato, cercare una corsia preferenziale di approvvigionamento all'aeronautica e quindi dare alla Forza Armata eletta, perciò tutto ciò che vola, i mezzi per poter fare tutte queste operazioni di assistenza logistica, trasporto truppe, unità speciali, di combattimento vero e proprio nei confronti di questi gruppi disorgenti e quindi mettere in qualche maniera colmare un po' questa vacuna. Questo per quanto riguarda gli elicoltri. Ecco generale, ma per quanto concerne proprio la dichiarazione e il fatto di armare anche i UAV. Ma dunque noi in nato abbiamo gli UAV tra i primi in Europa, quindi siamo fieri anche di questo. Gli UAV sono dei mezzi di cui non si percepisce l'utilità se non dopo averli impiegati. Io personalmente li ho visti operare sui Balcani, ne avevamo 28, non erano italiani naturalmente e hanno un'efficacia incredibile, soprattutto nei triatili come quello afghano. Chi lo sa meglio di tutto questo è Israele, cioè oggi se c'è un paese al mondo che si può definire leader nell'uso di questi mezzi, è Israele. Israele è passato nel giro di tre anni ad un radio di danni collaterali da 1 a 1 a 24 a 1. Cioè è arrivato oggi a un grado tale di precisione che gli consente di dover soffrire di una vittima innocente ogni 24 terroristi colpiti. E sicuramente i territori nei quali Israele usa gli UAV sono ben più complicati di quanto non possa essere il teatro afghano. Questo tanto per dire le potenzialità. Però i nostri non sono armati. Quindi personalmente ritengo questo il provvedimento più urgente da adottare. Anche perché è semplice, ci vorranno pochi mesi. L'aeronautica ha in dotazione Reaper, la versione successiva del Predator, quindi più sofisticata. Si tratta di passare da un UAV a un UCAV, perché UCAV significa Unmaned Combat Air Vehicle, quindi un velio da combattimento. Le trappole esplosive sono state in larga parte proprio indiguate degli UAV, soltanto che non avendo di che intervenire. È come se per esempio di fronte a una telecamera in una banca noi mettessimo una piccola freccetta avvelenata. Quando arriva il bandito si potrebbe immediatamente intervenire anziché sbobinare, andare a vedere chi sta, fare le ricerche, eccetera. Quindi un altro vantaggio dell'UAV è che se non si è sicuri di intervenire si può seguire l'obiettivo per giorni anche teoricamente, avvicendando i mezzi in volo, fin quando non si è sicuri sull'obiettivo e soprattutto sul fatto che non si facciano danni collaterali. Un altro vantaggio ancora è l'elevazione del livello decisionale, cioè non necessariamente deve decidere il tenentino che sta lì alla console. Se lui non si fida, non è sicuro, si può elevare il rango di decisione fino al livello più alto al limite, anche il ministro della difesa può vedere lo schermo e decidere se intervenire o no. Ecco tutte queste sono delle qualità che devono assolutamente convincere chi dovrà decidere, non so il ministro con il conforto del Parlamento, sulla utilizzabilità con fini di combattimento di questi mezzi.